è venuta finalmente la stagione più clemente che si mangia in questi mesi ovviamente gran pavesi sono tanti son fragranti ben dorati tutti quanti e comprare gran pavesi sono soldi bene spesi ed in più c'è un'occasione in regalo il crecherone con gran pavesi potrete avere in regalo il crecherone il simpatico materassino galleggiante che darà più sapore alle vostre vacanze